Il campo profughi di Biac, in Bosnia, si trova poco distante dal confine croato. Senza le minime condizioni di dignità, qui vivono più di 6.000 persone. Passare il confine è praticamente impossibile. C'è chi ci ha provato anche 20 volte, ma è stato respinto in modo violento dalla polizia croata. E così queste persone, tra loro ci sono anche bambini, sono costrette a vivere in luoghi che di umano non hanno nulla. I volontari possono entrare solo con un permesso del governo bosniaco difficile da ottenere. Lorena viene da Trieste, medica le ferite di chi ha percorso a piedi migliaia di chilometri. Un ragazzo aveva i piedi spaccati dalla polizia, la frontiera tra la Croazia e la Slovenia, e adesso in carrozzella. Vengono bastonati, picchiati, gli vengono tolte le scarpe, gli vengono tolti i vestiti caldi, devono camminare a piedi nudi e quindi si feriscono ancora di più, vengono gettati nei fiumi, gli sparano sopra la testa perché si gettino nei fiumi. Sono i racconti un po' di tutti. Franco è un pompiere in pensione, viene dal Piemonte, ha riempito la macchina di scarpe, giacconi e coperte ed è partito dall'Italia e poi è venuto qui, davanti al campo profughi di Bira. Le scarpe finiscono in pochi minuti, molti resteranno a piedi nudi al freddo. Visto che ognuno di noi dovrebbe lasciare un segno nella vita e dare un piccolissimo contributo, le famose gocce nel mare. Questa è la tua goccia nel mare? Spero di sì.